Domiciliari revocati Francesco Talarico torna in libertà per scadenza dei termini. I termini della misura cautelare per ripotesi di reato di corruzione elettorale sono scaduti hanno la durata di tre mesi per cui il politico Lametino, assessore regionale poi sospeso Francesco Talarico, 56 anni, torna in libertà. Lo ha deciso il GP di Catanzaro che ha revocato gli arresti domiciliari con richiesta della procura dell'obbligo di dimora per Talarico per scadenza dei termini che invece sarebbero stati più lunghi un anno se non gli fossero cadute le accuse più pesanti a febbraio scorso davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro che riqualificò in corruzione elettorale accogliendo le argomentazioni dell'avvocato Francesco Gambardella le ipotesi di reato Talarico sospeso da assessore al bilancio della Regione Calabria e segretario regionale dell'Udc fino al giorno del suo arresto indagato nell'ambito dell'operazione basso profilo per associazione a delinquere aggravata dalle modalità mafiose e scambio elettorale politico mafioso. Il riesame ridimensionò infatti le contestazioni per il Talarico annullando l'aggravante delle modalità mafiose e lo scambio elettorale politico mafioso confermando però gli arresti domiciliari ora revocati. L'arresto di Francesco Talarico avvenuto il 21 gennaio scorso era legato alle elezioni politiche del marzo del 2018 secondo quanto contestato la consorteria andranghetista delle persone di Antonio Gallo, imprenditore di Catanzaro, due politici catanzaresi Tommaso e Saverio Brutto, padre e figlio, l'uno all'epoca dei fatti, consiglieri di minoranza del comune di Catanzaro, l'altro all'epoca dei fatti, assessore del comune di Simeri Cricchi, tutte e tre coinvolti nell'inchiesta, abbia manifestato la propria ingerenza anche in occasione delle elezioni politiche del 2018 nel corso delle quali Natale Rigo, 35 anni di Reggio Calabria, imparentato con Cosca e Regine, avrebbe stipulato un patto di scambio con il candidato al collegio uninominale di Reggio Calabria della Camera dei Deputati Francesco Talarico, consistente nella promessa di entrature per l'ottenimento di appalti.